E' la seconda ripresa, round 7. Adesso non finta quel corso e fatti subito a destra il calcio. Vai a destra tua e prova. Allora finta e metti già. Grazie. Il posto, il posto, il posto! 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 Il posto, il posto! Il posto, il posto! Il posto, il posto! Il posto, 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 il posto! Il posto, il posto, il posto! Il posto, il posto! Sinistro, dritto! 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 Giro a destra, dritto! Calvo più possibile! Dai caldo! Piazza al gancio! Ecco un calore! Come viene? Vetti il gancio a sinistro! Giro a sinistro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.